Era alla guida di una Smart il carrozziere di Borgorico che ha perso la vita nello scontro con un furgone mentre viaggiava lungo la strada regionale del Santo, la 308, nel territorio di Resana. Un violento impatto frontale, quello tra i due veicoli, avvenuto poco prima delle 20 di venerdì sera. Stava piovendo in quel momento e l'asfalto era particolarmente scivoloso. Lo scontro è avvenuto all'altezza del distributore. Per il carrozziere, Andrea Rettore, 45 anni, non c'è stato nulla da fare nonostante il tentativo di soccorso da parte dei sanitari del SUEM. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Castelfranco e la polizia stradale che sta ricostruendo l'esatta dinamica del tragico incidente.